L'abbiamo presa! Sì, ce l'abbiamo fatta! L'hai presa la forza! Che vuoi fare? Do la me, dai! Apri la calda! Avete una penna? E io! Lasciatela fare! Una matita, forse! Non spingere! Dai, forza! Una penna! La matita non va bene! Eccola bene! Lasciatela fare! Ma c'era scritto proprio così! Puoi rimetterla a posto adesso, finalmente! Secondo me si vede che è falso! Non credo che è benci ciaschi! Non è venuta molto bene! Non importa se non è venuta bene! e sua madre non noterà la differenza! Abbiamo bisogno di guadagnare tempo! Ma va bene! Sì, va bene! Ha ragione! Ha ragione! Scotti? Sì, mamma! Ciao, Scotti! Cosa ci fai qui? Stavo guardando la palla da baseball di Bill, cioè di papà! Mi raccomando, non toccare, sai che non vuole! Sì, certo, lo so! Scusa, mamma! Non ti ha mai parlato di quella palla? No! No, no, mai! Non ricordo, non credo! No, 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 non me ne ha mai parlato! Io, io non so niente della palla! Sopra c'è l'autografo di Babe Ruth, il più grande giocatore di baseball di tutti i tempi! Davvero? Sì, tesoro! Sai, l'ha avuta da suo padre! E un giorno forse la darà a te! Fantastico! Era come mettere sale su una ferita aperta! Persino mia madre, che di baseball certo non se ne intendeva, sapeva chi era Babe Ruth!